Fischia in questo istante il direttore di gara, rincorsa di Ruggeri, poi calcia e la golla! Ruggeri, Sergio Ruggeri porta in vantaggio il Cassino, un tiro veramente imparabile da 35 metri, Cassino in vantaggio. In corsa, poi per poco non segna, lo fa Ciro Corrado, le spinta corta di Ruggeri che aveva impegnato il portiere Fiorini e Ciro Corrado va a segno per il Cassino. 2 a 0 per il Cassino 37esimo del primo tempo, 2 a 0 a favore del Cassino, ancora una micidiale punizione di Ruggeri, le spinta corta con non poche difficoltà di Fiorini, raccoglie la corrente Ciro Corrado e porta a 2 le reti per il Cassino. 3 a 0